bella raga oggi continuiamo con i nostri video di minecraft siamo in un'altra stiamo aspettando che inizio un'altra partita dei survival games qui con matteo 2000 xd yes e allora vi dico una cosa sorprendentemente sorprendentementosa oggi è venerdì che numero boh non lo so che numero comunque siamo intorno al 29 mi sembra 29 o 30 non ricordo comunque venerdì mattina sono le 11 e 48 minuti me lo riferisce il mio amico mac in alto a destra ciao mac ciao vi saluta mac oddio non ho mai visto i server vuoti c'erano praticamente tutta la bacheca tutte lo oddio join tutte join in grassetto lobby 0 0 0 su 24 0 su 24 2 su 24 cos'è così e c'erano due partite in tutto erano in gioco c'è pochissima gente oggi stamattina pochissima gente mai visto di solito c'era sempre tipo la guerra tipo sparta sparta per r e 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 tipo sparta per entrare e faccio non c'è nessuno italiano fantasma se italiano Ay e e e e e r e r . a no l'odio precisò mappa pizzer fabi x e si posso dire stoli non agna però chi cavolo è questo soigno Rappo, ok. Cavolo, corri! Oh yes, golden boots. C'è qualcuno, più di uno sicuramente, che ha la spada. Spero che mi stai seguendo, perché io non ho voglia di andare a cercarti, ok? Ok, se no... Eh, se no niente. Rimani solo e ti killano. Anche se ti killano anche quando ci sono io. Però, Gigi, speriamo di no. Yes. Arco e frecce! Optimus! What the... no! Che c'è? Ah no, scusa! Scusa! Eh, tieni. Era il mio amico, era. Fantasma, devi morire, lo sai? Ma... ma... I... H... H... No. Ok. Perché? Niente, niente, tranquillo. Andiamo alla ricerca di chest! Big, big chest! Tanto abbiamo arco e frecce, che tanto non sappiamo usare, ma gli chiediamo se... Sei bravo con l'arco? Sei bravo con l'arco? Tieni. Tieni anche le frecce. Meglio perché io faccio schifo con l'arco, così. È una confessione, tipo, più o meno. No! Grazie. Ale, in acqua! Ale, 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 ale! Ale, ale! Uzi, quello è tutto armato, super power. Tu hai l'ascia del tizio? Sì. Sì. Adesso... Te la do. Tieni. È vero che ce l'ho io, l'ascia del tizio. Lì, del tizio! Oddio! Yes! La kill! Best kill EU! Mamma mia! Su serio, proprio! Ah, una freccia. XD. Vediamo se aveva armi. Ah, l'elmo in ferro. Non ho niente da darti. Sì, li scriviamo. Sì, perché l'ho killato di brutto. Mamma mia! Da dietro li ho fatto tantissimo male. Allora, yes, 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 yes. Hai leftato, poverino, perché sei morto! Ah! Ha! Sei molto morto, sai? Uzzì, uno! Sono in due! Che cosa stai facendo? No! Dove stai andando? Ah no! Si stanno killando! XD! XD, XD! C'è... Forse ce la facciamo in due. Sta scappando! Ah! Il fapper. Magari è roba per me? Andiamo alla carica, sì! Mi sento molto caricoso oggi. Yes! Yes! Ci sta aspettando, eh? Mmm! Vogliamo quell'armor in ferro. Lo sai, bro? Oh no! Che... Che... Mmm! Sto morendo! Ha leftato! La sc... L'accolgo io quella roba. Ha... Leftato. Ci rimettiamo questi. Grazie. Grazie amico mio, amico XD. Mi ha fatto spaventare. Ora non riesco a giocare. No, mettiamo questo. Buttiamo... Facciamo Q che facciamo prima, dai. Tieni frecce. Undici frecce. Ti bastano? Non buttare le frecce, però. Fapper. Capito? You capish me? Oh yes! Oh yes! Ho preso anche dieci punti! Grazie! Che gentile! Andiamo qua, dai. Corri, please! Mi sta seguendo? Sì, mi sta seguendo. Ok. Ok, good, 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 good. God! Proprio così, con tante O. Yes! Eccolo, c'è questo qua. C'è un nome? No. Sembrava un nome. Invece no! L'ingotto, no! Vuote! Ah, mi ha dato la spada in pietra, grazie. Crafting. Non... Non... Non ho idea... Non ho idea... Di... Dove... Sia. Non ho idea di dove sia. Grazie. Gentile, il fapper. Dove è andato? Dove sei? Dove sei? Boh. È salito su, forse. No. Forse sì. Ho visto un nome. Boh. Non ho idea. L'ho perso. XD. Non ho idea di dove sia. Lui. Ah, ok. Eccolo, sì sì. Eccolo. Mettiamo a posto l'inventario. Grazie. Yes, siamo messi benissimo. Puoi darmi i pantaloni d'oro. Grazie. Andiamo allo spawn. Andiamo. Allo. Spawn. Per. No. Vabbè. Andiamo allo spawn. Dove è caduto? È andato qua. Tanto mi sono fatto. Per la crafting, dico, eh. Così ci facciamo spade in ferro, spade in diamante, spade in tutto. Yes. Tipo mezzo diamante e mezzo ferro. Mamma mia. Oddio. Mi sta venendo la roccia di una forza di far freddure. Beh, sì. Oggi c'è freddure. XD. Vabbè, fa più. Vabbè, no, no, neanche poco cibo. Cioè, vabbè, ne ho. Non è tantissimo, ma... Mamma mia, sono full! Non, non di ferro, ma... Sono full di armor. XD. C'era uno che scappava. Facciamoci la spada. Non ho stick. Non ho stick. Grazie. Grazie, amico. Amico, give me. Yes. Sta andando alla caccia. Sì, andiamo a cacciare. Prima però... A mangiare. Yes. Prima però a mangiare. Andiamo a cacciare. Basta con le rime sceme. Stanno andando di qua, giusto? Sì. Non volevo tagliare la strada, invece, no. Mannaggia a te. Mannaggia a te. Potevo tagliare... Please. Dai, dai, anche se lo killa lui, non importa. Siamo messi benissimo stavolta. Yes. Yes. È andato qua su? Sì, sta andando su. Dove l'arcerare? Così cade. Ahia. XD. Saliamo. Io salgo. XD, XD. Non mi stasse... No, non ho detto che ci vuole il sale. Ho detto... Oddio, basta! Basta con queste scemenze. Non so neanche come la spada. È shiftato, tipo. No, vuole farmi cadere. Viene... Via allo spawn. Vai allo spawn, ok? Ok. Aia. Dolore. Molto. Vai allo spawn, mi ha detto. Non via allo spawn, ma... XD. XD. Via allo spawn... No, ha detto... Vai allo spawn. Oddio. Non riesco più a parlare... L'italiano. Ho preso anche un po' di danno, ma... Non importerà. Danno da caduta. Yes. Spada in diamante! Spada in ferro! Oddio, no! Refill, refill! Oh, cavolo! C'è, devo killare questo. Dai, che ti blocchi prima o poi. Aia. Ok, Rasme, aiutami, please. Ho due accendini. Non so che far me. Sto per morire, cosa? Yes. Grazie! Diamond sword! Eh, tieni, ti ho data la cesplate. Yes, mamma mia. Ah no, cesplate d'oro. Allora, buttiamo tutto. Yes, buttiamo tutto. Anche questo, dai. Cooked stick, fishing rod, è questo. Vieni, vieni. Buttiamo queste cose e siamo a posto. Yes, siamo in tre, ragazzi. Siamo in tre. Questa la dobbiamo vincere. Come ha messo l'altro? Poverino, avevo... Ah, è quello dell'altra... No, l'avevamo ucciso. Chi è? Sa chi è? No, non l'ho neanche preso. GG. XDXD. Lasciamolo killare da lui. Che poi mi killa anche. Mannaggia te. Volevo i tuoi punti, ma no. Meglio di no. Oh, oh, oh! Dai, killalo che sto morendo. Cavolo. Asp. Asp. Sì. Asp. Aspetta un attimo, please. Dai, non voglio fare il cretino e gli metto fuoco, dai. Aspettiamo che... Aspetta... Mi mancano due cuori. sono due cuori cuori pronto? ok dai muoviti ah una pala una pala una what? no 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 torno allo spawn 3 2 1 vai no mi sono messo fuoco che cretino sono morto vabbè ragazzi questa è stata una partita a dir poco epica bravo a dir poco epica sì sì quindi ragazzi per ora è tutto ci vediamo in un prossimo episodio arrivederci ragazzi ciao ciao